Una disamina precisa dell'emorragia che preoccupa che allo stesso tempo indebolisce la vita consacrata e la Chiesa è stata fatta da Papa Francesco nell'udienza ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica ricevuti in Vaticano. Il Pontificio ha ricordato che se alcuni lasciano per un atto di coerenza, altri lo fanno venendo meno alla promessa di fedeltà. Evidenziando il peso del nostro tempo, nel quale si fa più difficile assumere impegni definitivi, Francesco ha parlato della cultura del frammento, del provvisorio, che rende schiavi delle mode, una cultura che impone porte laterali aperte su altre possibilità e che apre ad un vuoto esistenziale. Viviamo in società dove le regole economiche sostituiscono quelle morali, dettano leggi e impongono propri sistemi di riferimento a scapito dei valori della vita. Una società dove la dittatura del denaro e del profitto propugna una visione dell'esistenza per cui chi non rende viene scartato. In questa situazione è chiaro che uno deve prima lasciarsi evangelizzare per poi impegnarsi nell'evangelizzazione. Tra gli elementi condizionanti c'è il mondo giovanile con la sua mondanità. Attenzione poi alle controtestimonianze che minano la fedeltà, ma anche alla rutina, la stanchezza, le divisioni interne e soprattutto agli arrampicatori che cercano il potere. La vocazione, come la stessa fede ha aggiunto il Papa, è un tesoro che portiamo in vasi di creta, per questo dobbiamo custodirla come si custodiscono le cose più preziose.